In un mondo molto molto lontano, la tribù nomade dei Dugi trova un orfanello. Il piccolo viene chiamato Ennio. Mentre cresce, con lui crescono anche i suoi straordinari poteri. Il destino di Ennio è guidare la propria tribù alla valle nascosta. Per raggiungerla, devono affrontare mille insidie, una più pericolosa dell'altra. Questa è la leggenda di Ennio.